Oggi siamo qui riuniti a questa manifestazione che non l'abbiamo organizzata noi, ma l'abbiamo organizzata Forza Italia, perché questa zona è già tanto abbandonata, degradata in tutti i modi, ci hanno anche regalato, pare un'ottantina di immigrati non regolati. Ormai i giochi sono fatti purtroppo, ma almeno vediamo che non insistano con i programmi di mandarsene altri due cese, come pare abbia voglia di fare. Questa qui è una zona che è già stata abbandonata a tanti, sono sparite tutte le fabbriche che c'erano, tutte le attività un po' importanti ed è ormai una periferia degradata, dove la popolazione è abbandonata a se stessi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.